Un'indagine per epidemia colposa è stata avviata in queste ore dalla procura di Sondrio che ha aperto un fascicolo a carico di gnoti a seguito delle morti per coronavirus di anziani ospiti registrate da febbraio anche nelle nostre case di riposo. Questa mattina i primi controlli dei carabinieri dei NAS, nuclei antisofisticazione e sanità di Brescia, su disposizione del procuratore capo Claudio Gittardi e del magistrato titolare del procedimento Elvira Cantonelli. I militari hanno bussato alle porte dell'RSA di Nuova Ologno e Traona per effettuare una serie di accertamenti volta a verificare il numero di decessi registrati dall'esplosione della pandemia ufficialmente attribuibili al covid-19 ma anche verosimilmente legati al virus, le positività riscontrate tra il personale dipendente, le tempistiche di adozione dei dispositivi di protezione individuale ma anche le misure di distanziamento e di isolamento attivate nei confronti degli anziani ospiti, oltre a chiarimenti rispetto alla dotazione e alle verifiche sullo stato di salute attraverso lo screening dei tamponi. E ancora sotto la lente degli inquirenti anche i confronti avvenuti in queste settimane tra case di riposo e denti superiori, quali le richieste avanzate dall'RSA per affrontare l'emergenza covid-19 e le eventuali indicazioni e risposte da parte di Regione Lombardia. Insomma le verifiche di procure carabinieri si concentrano sulle azioni, provvedimenti, le misure adottate nelle case di riposo, strutture particolarmente esposte all'insidia del coronavirus per la condizione di fragilità dei loro ospiti. Un'indagine partita d'ufficio, non ci sono al momento denuncio esposti, con accertamenti che proseguiranno in tutte le residenze sanitarie assistenziali di Valtellina e Valchiavenna, al fine di chiarire se siano state adottate tutte le misure necessarie a tutela della vita degli anziani delle nostre RSA.